Ora sentite la mamma mia, però. Norvegia, Airways, Milano, New York, la grande mela, 199 euro, andate in ritorno. Sabato prossimo, Milano, Reggio Calabria, 570 euro. Come cazzo è possibile? Non c'è vento una benzina, andui andando aereo, perché non si spiega. Ma noi milanesi abusivi abbiamo bisogno di tornare ogni tanto in Terra Santa. Mi manca il sole, mi manca il mare, mi manca quel profumo di disoccupazione che c'è. Ma quello che mi manca di più è il paesaggio, lo stile incompiuto calabro. Sapete che no? Le case come attone a vista? Ma da dove cazzo venite? Da noi si usa che il padre, il capofamiglia, alza un palazzo di cinque piani, giusto? Rifinisci solamente il primo? Poi, a mano a mano che i figli ci sposano, rifinisci il primo, il secondo, il terzo. Se i figli non si sposano, se ne vanno, resta così, indefuttimo. Qual è il problema? Che la... Che la prima volta che sono arrivato a Milano, ho visto un grattacielo, ho detto, Minta, quanto cazzo i figli avete, chissà? Dico, vabbè, proviamo col treno. Milano, Reggio Calabria, con sosta a Roma, freccia rossa, 209 euro, col treno! Non ci sono più i viaggi democratici, quei bei treni a lunga percorrenza, ve li ricordate? Quelli che erano tristi già da fuori, marroni, vi ricordate? Che erano veramente... Ma erano viaggi che almeno ti lasciavano qualcosa. E tu lo sentivi il viaggio. E quando arrivavi a casa, lo sentivano anche le persone vicino a... Un profumo del treno per tutti i giorni. Ma erano... Tutte le emozioni veramente passavano attraverso un finestrino. O no? Un baci strappati, fazzoletti sventolati, e un onno che ti carregava lì già... Tenacca, figlio! Erano treni con un nome e un cognome, con una storia. C'era il Peloritano, l'Intercity Francesco Cilea, la freccia dell'Aspromonte, Emilia, Reggio Calabria, Salerno, le 18 ore. Uttana la freccia! A scendere di solito prendevo uno che era... Comodissimo perché partiva da Torino alle 8.30 di lunedì mattina. Oh, arrivava la sera alle 18.00 di giovedì. Dai, alla buttata! Quattro giorni ci piegava su sera!